In questo video vedremo come si può tradurre in tedesco la congiunzione italiana SE. La congiunzione italiana SE può essere tradotta in tedesco in due modi. Con OP, nel caso in cui abbiamo una frase, con valore dubitativo o interrogativo. In tedesco si parla spesso di indirekte frage, quindi di interrogativa indiretta. Vedremo poi alcuni esempi. Oppure può essere tradotta con WEN, SE, che ha appunto un valore condizionale. In questo caso avremo in tedesco le cosiddette condizionalze, ma anche quelle irreali, ossia quelle ipotetiche ma anche le condizionali reali. Partiamo da OP, SE. È un esempio. Ich weiß nicht ob er morgen zur Party kommt. Questa è un'interrogativa indiretta. Spesso si chiamano anche frasi dubitative, sono spesso introdotte da verbi come Ich weiß nicht, non so. La domanda diretta sarebbe stata Kommt ihr morgen zur Party? Ja, er kommt oder nein, er kommt nicht, sono le possibili risposte. Quindi sono quelle domande la cui risposta può essere sì o può essere no. Quando poi noi costruiamo la domanda indiretta, l'interrogativa indiretta, utilizzeremo OP al posto appunto del Fragevor, che annualmente hanno le altre frasi indirette. Avremo quindi la frase principale, Ich weiß nicht, la virgola, ob il soggetto e il verbo coniugato alla fine. Si parla quindi di domanda indiretta o interrogativa indiretta. Und jetzt schauen wir uns einige Beispiele an. Ich weiß nicht, ob das Museum am Sonntag geöffnet ist. Non so, se il Museo è aperto di domenica. Er hat mich gefragt, ob wir heute Abend ins Kino gehen. Mi ha chiesto, se questa sera andiamo al cinema. Ich frage mich, ob ich in dieser Situation richtig gehandelt habe. Mi chiedo, se in questa situazione ho agito correttamente. Noch ein Beispiel. Es steht noch nicht fest, ob er mitkommt. Es steht noch nicht fest, significa es ist noch nicht sicher. Non è ancora sicuro, se viene. Come notate, in questo caso abbiamo una costruzione impersonale, che comincia con es. Es steht noch nicht fest, potrei anche dire es ist noch nicht sicher. Posso girare la frase, posso quindi dire ob er mitkommt. Poi utilizzerò steht come verbo, ma non dovrò più mettere es, perché la costruzione è steht noch nicht fest, può stare soltanto nella frase principale e all'inizio della frase. Nel caso appunto in cui cominciamo con la subordinata, ob er mitkommt, steht noch nicht fest, in questo caso er sparisce. La congiunzione se può essere tradotta anche con wenn, nel caso in cui, se nel caso in cui. In questo caso si tratta di una condizionale ipotetica. In tedesco si chiamano bedingungsätze al plurale, bedingungsatz, der bedingungsatz o der condizionalzatz. Sono quindi frasi ipotetiche, frasi condizionali. Vediamo alcuni esempi. Wenn es nicht zu kalt ist, fahren wir morgen ski. Quindi se domani non è troppo freddo, andiamo a sciare. Adesso morgen in realtà era nella frase principale, ma comunque. Wenn es nicht zu kalt ist, se non è freddo, domani andiamo a sciare. Fahren wir morgen ski. Come si nota, questo genere di franse, introdotta da wenn, se domani non è troppo caldo, può essere sostituita anche con nel caso in cui. Quindi quando il se è sostituibile anche con l'espressione nel caso in cui, è sempre wenn. Nel caso in cui non è troppo freddo, possiamo andare a sciare. Abbiamo quindi la frase principale, il verbo coniugato alla fine, quindi ist, e poi abbiamo la principale, che come sempre, nella quale come sempre c'è l'inversione tra il verbo e il soggetto. Fahren wir. Un altro esempio. Wenn man bei der hotline anruft, muss man lange warten. Se telefoniamo alla hotline, dobbiamo aspettare a lungo. Se vuoi leggere questo libro, te lo posso prestare. Ecco, negli ultimi due esempi, anche in questi due casi, noi possiamo dire, nel caso in cui telefoni o qualcuno telefona all'hotline, deve eccetera eccetera, oppure nel caso in cui vuoi tu leggere questo libro, te lo posso prestare. Quindi funziona sostituire il se con nel caso in cui. Siamo quindi sicuri che la congiunzione che dobbiamo usare è wenn e non è ob. Quindi abbiamo visto che se può essere tradotto con hop oppure con wenn, ma c'è un trucchetto per capire se usare hop o wenn nelle frasi, ed è il seguente. Nel caso in cui noi dobbiamo usare wenn, quindi se, dobbiamo poter sostituire il se anche con nel caso in cui, se appunto nel caso in cui e se funzionano, useremo wenn, altrimenti dovremmo usare l'altro tipo di se che è hop. Infatti, nella frase, ich weiß nicht ob das Museo am Sonntag geöffnet ist, non so. A parte che è già dubitativa, perché c'è ich weiß nicht, ma comunque. Non possiamo dire, non so, nel caso in cui il Museo è aperto la domenica, non ha senso. Ma nella frase successiva, wenn man bei der hotline anruft, muss man lange warten, se si chiama la hotline, nel caso in cui si chiama la hotline, bisogna aspettare a lungo. In questo caso, appunto, è possibile sostituire il se con nel caso in cui, e quindi si userà soltanto wenn. Quindi, vediamo questa prova del 9 per vedere se possiamo usare la nostra congiunzione wenn. Wenn, quindi, corrisponde a falls, corrisponde a nel caso in cui. Io posso dire, wenn es nicht zu kalt ist, quindi se non è troppo freddo, domani, appunto, andiamo a sciare. Posso sostituirlo con nel caso in cui. In tedesco si dice falls, falls es nicht zu kalt ist, fahren wir morgen schi. E funziona, infatti. Posso dire nel caso in cui non è troppo freddo. Per dire sì o nel caso in cui non è troppo freddo, posso anche semplicemente fare un'inversione a inizio frase. Quindi dirò, ist es nicht zu kalt? fahren wir morgen schi. E tradurremo in italiano, chiaramente, sempre con il nostro se non è troppo freddo. Prima avevamo sempre iniziato con la frase subordinata e poi avevamo aggiunto la principale, ma evidentemente è possibile anche cominciare con la principale e poi aggiungere la subordinata, come in questo caso. Ich bin froh, wenn ich endlich ein neues Handy bekomme. Sono contento, se ricevo finalmente un nuovo telefonino. Ich komme am Samstag bei euch vorbei, falls ich Zeit habe. Sabato vengo da voi, passo da voi, nel caso in cui ho tempo. Vediamo ora un esempio con wenn, con il congiuntivo 2, der Konjunktiv 2. In questo caso parleremo di irreale condizional setze, o irreale bedingung setze, le frasi condizionali reali, quindi che non sono vere, che sono appunto, esprimono semplicemente delle supposizioni. Wenn ich ein Fahrrad hätte, se ich wisse, in italiano si traduce con il congiuntivo imperfetto, almeno nella parte, diciamo, della subordinata, wenn ich ein Fahrrad hätte, in la principale käme ich immer pünktlich zum Unterricht, quindi verrei, quindi con il condizionale in italiano, in tedesco rimane il congiuntivo 2, si può anche mettere würde kommen, alla fine, ma käme va comunque bene, käme ich immer pünktlich zum Unterricht, o würde ich immer pünktlich zum Unterricht kommen. In questo caso traduciamo il condizionale italiano. Si tratta quindi in tedesco di una gegenwärtsform, quindi è una forma del presente del congiuntivo. Esiste anche infatti una forma passata del congiuntivo, che poi in italiano è un trapassato. Wenn ich ein Fahrrad gehabt hätte, quindi se io avessi avuto una bicicletta, wäre ich immer pünktlich zum Unterricht gekommen. Sarei poi arrivato puntuale a lezione, sarei sempre arrivato puntuale a lezione. In realtà la bicicletta non l'ho mai avuta. Quindi, wenn ich ein Fahrrad gehabt hätte, wäre ich immer pünktlich zum Unterricht gekommen. Abbiamo quindi il participio passato e il verbo avere, in questo caso al congiuntivo 2 presente, quindi che è abt hätte, è alla fine della frase perché è una subordinata, e nella principale abbiamo in questo caso il verbo essere, perché il verbo kommen chiede l'ausiliare essere, e poi abbiamo il verbo kommen, in questo caso al participio passato, quindi ich, anzi, wäre ich, perché c'è l'inversione nella frase principale, wäre ich, eccetera, eccetera, gekommen. Vediamo ora la possibilità di esprimere le frasi appena viste senza la congiunzione wenn. È possibile anche tralasciarla facendo semplicemente un'inversione, inizio frase, proprio come quando si fanno le domande. E si traduce anche qui sempre in italiano con il se, se avessi una bicicletta, verrei sempre puntuale a lezione. Al passato stessa cosa, Abbiamo in questo caso anche la frase, se io avessi avuto una bicicletta, sarei sempre venuto puntuale a lezione. Forma del presente, nel primo caso del congiuntivo, forma del passato, così si chiama in tedesco, Vergangenheitsform, der Konjunktiv zwei. Vediamo un esempio di frase irreale e condizionale. Si parte evidentemente sempre da una situazione di realtà. Tu hast nicht viel gelernt, non hai studiato tanto. Tu bekommst jetzt eine schlechte note, per cui ricevi un brutto voto. Ma la situazione reale qual è? Se tu avessi studiato di più, ora riceveresti un voto migliore. Quindi in tedesco, Wenn du mehr gelernt hättest, bekommst du jetzt eine bessere note. Vediamo ora la congiunzione als, ob, che significa come se, richiede il congiuntivo due. Sono sempre frasi comparative reali. In tedesco irreale, Vergleichssätze, comparativsätze si può anche dire, Er spricht deutsch als ob er aus München käme. Quindi parla il disco, come se venisse da Monaco. Er tut so, quindi fa così, si comporta in tal modo, als ob ihr alles verstanden hättet, come se avesse capito tutto. Quindi abbiamo una frase principale, Er spricht deutsch, o Er tut so, e poi la subordinata che è introdotta da als ob. Poi avremo il soggetto, il verbo coniugato alla fine. Questa è una possibilità. Abbiamo però anche la possibilità di usare soltanto als. Avremo in questo caso una semplice inversione all'inizio, quindi käme er, invece della trasposizione, come negli altri casi. Quindi er spricht deutsch als käme er aus München. Poi tradurremo sempre con come se venisse da Monaco. Vediamo ora altri esempi di frasi comparative e reali. Abbiamo detto che quindi abbiamo due possibilità, o con als ob, che richiede la frase subordinata, quindi la trasposizione, quindi con il verbo alla fine coniugato, al congiuntivo 2, e con als abbiamo semplicemente un'inversione. Partiamo da un primo esempio. Er tut so, als ob er nichts gesehen hättet. Quindi lui si comporta, fa così, come se non avesse visto niente. Quindi fa finta, no? Di aver visto qualcosa. In realtà non ha visto nulla. Er tut so, als ob er nichts gesehen hättet. Nell'altro modo dirò semplicemente Er tut so, als hätte er nichts gesehen. Lui fa così, come se non avesse visto niente. In italiano poi si traduce allo stesso modo, ma il problema è semplicemente la costruzione di questa frase. Quindi con als ob abbiamo la trasposizione, quindi verbo coniugato alla fine, mentre con als abbiamo il verbo dopo la particella als, e poi abbiamo il verbo. Vediamo un altro esempio. Er tut so, als ob er nichts wüsste. Come se non sapesse nulla. Er tut so, als wüsste er nichts. Bene, siamo giunti al riepilogo. La congiunzione italiana se può essere tradotta in tedesco con ob nel caso di frasi dubitative e interrogative indirette. Quindi frasi come Ich weiß nicht ob ich den Unterschied zwischen ob und wenn verstanden habe. Non so se ho capito la differenza tra le due congiunzioni ob e wenn. Ma certo che l'ho capito. Wenn invece si usa quando è se nel senso di nel caso in cui. Quindi quando un valore condizionale ma anche ipotetico. Ad esempio Wenn ich mehr lana bekommisch anebe essere note. Se studio di più ricevo un voto migliore. Nel caso in cui studio di più ricevo un voto migliore. Poi c'è anche la possibilità di avere il se con il congiuntivo 2 quindi il se con l'italiano con il congiuntivo imperfetto. Wen ich Zeit hätte quindi se io avessi tempo käme ich zu dir verrei da te se avessi tempo verrei da te. In italiano abbiamo il congiuntivo imperfetto e il condizionale quindi käme in tedesco abbiamo il modo congiuntivo 2 in entrambi i casi. Quindi ob se interrogativa indiretta wen se nel caso in cui Er fragte mich ob ich Hilfe brauche. Mi chiese se avessi bisogno di aiuto. In questo caso abbiamo una domanda indiretta. La domanda diretta sarebbe stata Er fragte mich Brauchst du Hilfe? Ja, ich brauche Hilfe. Nein, ich brauche keine Hilfe. Con il wenn Wenn ich Zeit habe helfe ich dir se ho tempo ti aiuto. Quando invece è ipotetica wenn ich keine Zeit hätte würde ich dir nicht helfen. Poi abbiamo come se che è una comparativa reale che in tedesco si può tradurre con als ob che introduce c'è una subordinata avremo quindi Er ferelt sich als ob er kein Geld hätte quindi si comporta come se non avesse soldi. Als ob richiede quindi la trasposizione. Oppure abbiamo als che si traduce sempre con come se ma invece l'inversione quindi Er ferelt sich e poi la frase due als esse er kein Geld come se non avesse soldi.